Il gruppo storico militare Carlo Emanuele e il reggimento delle guardie delle venerie reali dal 28 di febbraio rischia di non avere più una sede. Mi soviene da dire che praticamente il duca e la marchese verranno esiliati da veneria. Come mai? Questa lettera di sfratto non lo troviamo giusto perché è un gruppo che è nato dentro il comune. Quando è stata fondata l'associazione è stata fondata insieme a delle persone che lavorano dentro al comune. Nello statuto abbiamo anche tutti i nominativi ancora oggi. Adesso mandare una lettera nel giro di 15 giorni, come si può traslocare e comunque avere anche il tempo di trovare un altro luogo, un altro posto dove poter stare. Noi questo non lo troviamo assolutamente giusto. Il gruppo quanti sono C.A.? 40. Tutti i venariesi? Tutti i venariesi? No, in parte venariesi e in parte torinesi, provincia. Ecco, ma questo sfratto da cosa è dovuto? Non lo sappiamo sinceramente. Adesso io non posso capire. Magari loro hanno esigenze per dare magari spazio ad altre associazioni. Però comunque questo non è stato comunicato. Noi volentieri, per carità, non facciamo polemiche. Però prima di spostarci noi dobbiamo avere un altro posto. E anche il tempo, perché noi abbiamo anche delle armi. E le armi non sono giocattoli. Dobbiamo avere sempre il nulla osta dei carabinieri. Per cui questo è un fatto molto delicato. Non possiamo spostarli e portarli altrove così facilmente. Il gruppo storico ha dato lustro alla città in Italia e all'estero. Esatto. Sì, il gruppo in questi vent'anni di sacrificio e di volontà e passione dedicato a tutto sulla cultura e sulla storia dei Savoia, il gruppo si è spostato anche all'estero, dove siamo stati in Belgio, in Spagna, in Francia, in Germania, in Inghilterra. Ecco, prossimamente abbiamo anche degli agganci nel Giappone. Dovremmo andare questa primavera in Giappone se il progetto va a buon fine. Noi progetti, in pratica abbiamo presentato un paio di progetti precedentemente, negli altri anni. Ne avevamo uno nuovo da presentare, però visto, permettetemi, la chiusura da parte dell'amministrazione comunale nei nostri confronti come gruppo storico, a questo punto ci è sembrato impossibile presentarlo, visto che in realtà non è stato preso tanto in considerazione questo gruppo storico, però noi ce l'abbiamo lì nel cassetto, possiamo sempre comunque presentarlo quando vogliamo, questo sì, sicuramente, se abbiamo i presupposti. Bruno Sacco, in qualità di Vicepresidente dell'Associazione, vuole fare un appello al Sindaco? Esatto. Dottor Falcone, lei è il Sindaco di questa bellissima città, dove lei ha avuto la fortuna di fare il Sindaco nella città della Reggia, le chiederei questo con gentilezza, faccia qualcosa in modo che il gruppo storico non muoia, non vada a finire, altrimenti verranno buttati tutti i 20 anni di sacrificio e non lo trovo giusto. Comunque, io ho fiducia in lei e nella sua amministrazione, credo che comunque qualche cosa farete, me lo auguro, però io sono sempre qui, quando lei vuole avere un incontro con noi, noi l'aspettiamo. Siamo qui, possiamo sempre parlare, parlare, farle capire meglio un po' tutta la finalità dell'Associazione, noi siamo sempre a vostra disposizione. Quindi noi abbiamo sempre rappresentato fuori anche dall'Italia, Venaria, bene, abbiamo sempre portato del bene, mai del male, assolutamente, perché la storia è bella, i Savoia hanno una bellissima storia, la storia non si può cancellare. Portiamola avanti per il bene della Venaria, della gioventù, che comunque i ragazzi hanno bisogno di conoscere anche la storia precedente per poter affrontare il futuro. Io le chiedo questo, signor Sindaco, faccia qualcosa, non ci abbandoni, ci lasci nella sede. La ringrazio.